Si riferisce alla mia attività marinara. Quando ero comandante e venivo dall'estremo oriente con la nave, prima di venire a Trieste, facevamo scalo a fiume e a fiume c'erano due locali malfamati. Si chiamava il Plaviadran e il Nebode. Il Plaviadran era il più in un'occasione quella biondina giù nell'angolo, mora, mi fa guarda, mi telefona da Trieste e dice voglio venire ad anticiparsi come fremneva di incontrarmi dopo mesi di lontananza. Vengo a fiume, va bene, viene a fiume e mi fa questa sera siccome è dell'ambiente marinaro, aveva sentito parlare di questo Plaviadran, stasera andiamo al Plaviadran. No, mi non lo conosco, non so, mi quando sono a fiume sono sempre di guardia. Allora scendo dalle scale, dalla scalea, 300 partecipanti e c'era la spogliarellista con le mutande che diceva, rotteando, a chi diamo queste mutande e tutta la platea, al Capitano Ferfoglia, ciao mia moglie, ah mai qua, ti sempre di guardia, sempre in cesa, andiamo a bordo, non voglio savergliene. Prendiamo il taxi e sul taxi mi dà la seconda razza, la seconda razione. Il tassista si volta e fa, Capitano te ha portato le troie cattive, ma una cattiva come questa è mai.